allora buongiorno buongiorno a tutti oggi è sabato e facciamo un solito intervento per parlare di oro allora in generale l'oro continua a volare sta sicuramente passando un momento molto positivo l'abbiamo già detto tante volte questa era una cosa anche abbastanza prevedibile perché le banche centrali sicuramente continuano a comprare oro e questo fa lievitare il prezzo perché il loro non è comunque un bene limitato no dobbiamo sempre tenere presente anche questa cosa quindi tutti coloro che hanno già investito in oro l'hanno già fatto negli anni passati e possono essere contenti di questa cosa perché in linea di massima invece chi ha investito nelle borse negli ultimi 4-5 anni nonostante i quanti divisi nonostante apparentemente le borse stiano guadagnando nella realtà hanno guadagnato ben poco e c'è comunque il rischio sempre la spada di Damocle che tutto possa in poche ore e perdersi è come è successo tante volte in passato per adesso il sistema regge non so fino a quando quando potrà reggere dunque allora oggi parliamo di diverse cosettine in collegamento con noi c'è anche claudia che però sta guidando e non vogliamo disturbare e dobbiamo parlare un attimino di quello che è successo a Lucca abbiamo fatto la scorsa settimana l'intervento nell'insieme personalmente mi posso ritenere soddisfatto di quello che è successo pioveva era brutto tempo ho avuto 4-5 cancellazioni all'ultimo momento comunque il congresso si è tenuto e ci sono stati i tre interventi il mio intervento eh quello di eh di Antonino Zurolo che è il direttore generale della Z Metalli e quello di Claudia Brandoni per la Elior che in questa occasione ha appunto presentato diciamo il progetto l'espansione internazionale dell'azienda che avviene eh attraverso verrà attraverso in particolare la rete esistente no già in Italia appunto e che fa capo in Svizzera presso la Resono con questo nuovo marchio che hanno eh creato eh Exelio eh che sarà appunto quello internazionale no per non confonderlo con la Elior che è quello nazionale italiano allora eh vediamo di chiarire questo punto qua e Claudia sarà a disposizione vostra tutti coloro per tutti coloro che sono interessati perché lei conosce tutti i dettagli io li sto ancora studiando sono a disposizione naturalmente e ehm e potete contattarla e e in qualsiasi momento però prima prima dovete vedervi il link di presentazione che io vi ho postato sul canale per cominciare a capire di che cosa si parla va bene in particolare il video è piuttosto lungo la parte che proprio vi interessa potete ascoltare anche la prima ma la parte che interessa è quella eh dedicata agli sharing packs che sono questi pacchetti diciamo così provvisionali che vengono che potete acquistare e che hanno appunto tutta una loro funzione va bene vedetevi per bene il video dal minuto in particolare eh dal minuto 32 e 45 fino al minuto 43 sono dieci minuti che si ascoltano abbastanza bene dopodiché per coloro che sono interessati eh prima magari ecco di chiamare eh Claudia o chiamare me insomma potete sempre farlo vi invitiamo al a alla 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 allo zoom che ci sarà eh lunedì prossimo e anche lì vi ho posto il link eh che voi dovete su quale dovete cliccare per registrarvi eh nel quale affronteremo tutte le domande risposte cioè qualsiasi tipo di domanda eh coloro che sono interessati questo messaggio è indirizzato principalmente agli advisor cioè a coloro che fanno già una certa produzione con la Helio però è stessa a tutti quando uno poi decide di partecipare di acquistare una quota è sua scelta partecipare alla produzione meno o meno non c'è nessun tipo di obbligo però ripeto prima ascoltatevi per bene questa presentazione dopodiché partecipate al eh allo zoom di lunedì che mi sembra appunto sia alle otto e trenta la sera ovviamente e dopodiché no dopodiché fate mente locale e e magari chiamate me e chiamate Claudia a seconda di quello che volete fare va bene per le cose molto tecniche e per i dettagli vi prego di chiamare lei che è sicuramente più preparata allora io devo fare una precisazione fondamentale e bene essere chiari perché io ho una mia linea una mia coerenza e non voglio creare contraddizioni va bene negli ultimi due o tre anni dopo l'investimento in oro molti di voi mi chiedono ma cosa posso dove possiamo investire c'è ancora un po di soldi da investire e come sapete io cioè come sapete io ho pensato studiato valutato da altre alternative un po' più un po' meno sono tutte collegate alle borse gli investimenti e io non 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 mi sento eh non mi sento di suggerire una ho la soluzione anche per questo eh ora ci arrivo ci sto lavorando però è sempre una cosa collegata alle borse è inutile girarci intorno e io ho questo suggerimento non mi sento di darlo eh a nessuno se qualcuno però è comunque ha comunque desiderio di investire in borsa eh attraverso un mio carissimo amico che sarebbe il mio miglior amico che adesso lavora per una delle più grosse aziende finanziarie e posso dire d'Europa eh eh possiamo fare sempre un'operazione però io non garantisco niente ecco piuttosto quindi che andare a parlare col direttore di banco affidarsi a un consulente finanziario di cui non avete piena fiducia magari mi potete contattare io vi metto in contatto con Vittorio e fate tutto con lui eh perché tra noi non abbiamo un discorso provvisionale si fa tutto a livello di amicizia io gli ho detto spero che magari qualche volta tu mi tu mi tu mi mandi anche dei contatti per per fare un po' di business in oro ma tutto qui a livello proprio proprio di amicizia va bene e quindi in quel caso possono fare anche un'operazione del genere ma l'operazione di cui stiamo parlando adesso è un'operazione che si concentra soltanto sull'oro ed è completamente scollegato dai rischi di borsa va bene vorrei essere chiaro su questa cosa qui quindi non è una un suggerimento ad alto rischio certo quando uno investe in in un progetto qualsiasi progetto sia ed insito nel 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 progetto stesso che c'è un tipo di rischio ma questo succede quando si apre un'azienda succede anche quando ci si sposa è sempre un rischio ed è sempre un investimento va bene in un certo senso ecco quindi detto questo è chiaro che se io decido a questo punto di supportare il progetto è perché principalmente ho fatto questa considerazione va bene che non emerge in maniera chiara dalla presentazione che loro hanno fatto e proprio per questo ve l'ha preciso io va bene ora detto questo avete per caso ciao jack buongiorno diego hai per caso domande jack buongiorno se avete domande commenti potete interrompermi e si precisano le cose comunque io diciamo che la presentazione di questo nuovo progetto excelio la concludo qua quindi vi invito a vedere il video che ho postato sui vari canali canale consulenza oro va bene dopodiché di registrarvi no per lo zoom di lunedì alle 20 e 30 dopodiché fate le vostre considerazioni ci sono differenti pacchetti a disposizione e siamo e siamo e siamo contenti così in un certo senso comunque un'opportunità diciamo da considerare perché si concentra sull'oro capite quindi qualsiasi cosa succeda sui mercati per capirci sarà a favore del nostro investimento perché nel momento in cui anche quando c'è il grande risette no e l'oro andrà su è un po' lo stesso discorso che abbiamo fatto col valorizzatore switch pilot di cui ora vi parlerò cioè sono queste queste sono operazioni che vanno benissimo perché in un certo senso sono fuori dal sistema e quindi qualsiasi cosa succeda sia oro che argente andranno su allora adesso parliamo del switch pilot recentemente negli ultimi proprio l'ultima settimana l'argento si sta apprezzando quindi noi sappiamo che il valorizzatore del switch pilot verte sul rapporto tra oro e argento quindi apprezzandosi l'argento ha fatto sì che la ratio calasse ed è calata fino a 79.5 una cifra di questo tipo allora molti di noi cioè molti di noi voi quelli che hanno attivato il switch pilot deciso di farlo perché non è una cosa obbligata con l'ovesta chi ha deciso di farlo ha già chiuso il primo ciclo intorno agli 85 86 87 va bene adesso siamo molto vicini alla chiusura del secondo con la creazione della famosa extra grammatura non so se qualcuno l'ha già ricevuta se per caso ha già chiuso il secondo ciclo naturalmente siete invitati a comunicarmelo perché io non lo so eh lo dovete dire voi va bene ehm purtroppo ci siamo arrivati vicini dovevamo arrivare a 77 76 ieri proprio ieri l'altro eh la ratio eh ha diciamo cambiato direzione e e sta di nuovo eh aumentando e quindi bisogna sperare che ehm insomma il trend eh eh ritorni di nuovo verso l'argento e come vi ho detto sin dall'inizio non bisogna avere pazienza perché questo è un ciclo che prende almeno almeno nove dieci mesi va bene bisogna essere paziente è chiaro che eh sono cose che dipendono né da me né da voi né da nessuno eh detto questo e poi ne riparleremo spero che tutto avvenga comunque entro la fine dell'anno perché le attivazioni sono state fatte febbraio no scusate aprile maggio giugno e quindi come vedete arriviamo sicuramente a fine anno eh eh non è obbligatorio eh eh attivare questo sistema allora facciamo un'altra considerazione collegato un collegamento a quello che dicevamo che stiamo dicendo allora chi segue eh da tempo sa che fino allo scorso anno i pacchetti principali per certi tipi di investimenti si chiamavano Royal Class va bene ora hanno poi nel febbraio marzo inserito i nuovi pacchetti a taglie e loro puntano tutto sul sul Switch Pilot e quindi hanno invitato noi e insomma voi clienti a cambiare va bene dal Royal Class al Switch Pilot ma non è una cosa obbligata e non è per me nemmeno una cosa obbligata vendere il nuovo programma cioè io posso proporre il programma che va meglio per il cliente perché se un cliente mi dice guarda a me non mi interessa il Switch Pilot io sono contento con il Royal Class benissimo io facciamo il classico investimento ve l'ho sempre detto che l'investimento tipico classico è quello del Royal Class per cui si compra allora determinate condizioni si stocca all'interno di Brinks con estrema sicurezza sotto questo punto di vista ovunque sia è comunque all'interno di Brinks e quindi con molta probabilità eh eh super sicuro perché non solo è in un cavo ma è protetto da eh eh immunità diplomatica e io se volete di questo vi preciso meglio ehm nella consulenza eh privata va bene eh però sono quasi certo di quello che dico perché se prima di fare una dichiarazione mi informo e se se non sono assolutamente certo eh il condizionale è sempre d'obbligo non ne parlo nemmeno ehm dopodiché eh a Ovest offre anche eh la grande flessibilità appunto ultimo passaggio acquisto stoccaggio rivendita di rivenderti l'oro e di mandartelo dove vuoi tutto questo è particolarmente interessante per coloro che si vogliono spostare all'estero perché non dimentichiamoci che Ovest è strettamente collegata al piano B io ho 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 suggerito e proposto a Ovest principalmente a tutti coloro che magari erano voluti a trovarmi in Tanzania perché ha questa grande flessibilità va bene può darsi che ci siano altre aziende che lavorano in questa maniera qui ma io sino adesso con questa flessibilità qui in Europa e nemmeno del resto del mondo le ho trovate eh se ci sono me le segnalate si può sicuramente fare un'indagine anche su altre aziende va bene ora detto questo eh vorrei adesso dirvi un'altra cosa mentre all'inizio mi avevano detto che sarebbe stato possibile mantenere eh o selezionare il un deposito specifico per esempio a Zurigo eh anche col programma battaglie adesso purtroppo per problemi legati al software eh mi hanno ci hanno detto ci hanno comunicato proprio a me l'hanno detto a Walter io non lo sapevo nemmeno eh poi me l'ha detto Walter che fra l'altro era in vacanza e quindi abbiamo avuto una comunicazione insomma scazza ultimamente ma ehm detto che che eh mentre ovviamente c'è la garanzia cioè l'oro sarà comunque stoccata all'interno dei Brinks o eh eh presso una delle associate perché lavorano anche con altre tre aziende bene non possono più garantire lo stoccaggio in Svizzera io di questo ovviamente non ero contento non sono contento però purtroppo è così quindi io questo ve lo comunico io mi scuso per quello che mi riguarda ma io io vi ho detto quello che mi hanno detto loro e anche loro si sono un certo senso scusati però hanno detto siccome cosa succede si si prende l'oro e quando si attiva il primo ciclo l'oro viene convertito in argento quindi compra l'argento non è possibile e stoccare l'argento a Zurigo perché non è possibile stoccare non hanno posto stoccare tutto l'argento per quindi viene distribuito come possono distribuirlo sempre presso ovviamente cavo della Brinks quindi si deve stare tranquilli stessa cosa quando poi si chiuderà il secondo ciclo per cui venderanno l'argento e compreranno oro quindi la situazione è questa qui io sto adesso sono ancora in contatto con loro e appena rientro diciamo nella diciamo prendiamoci i primi 15 giorni di novembre cercherò di vedere quello che posso fare però cosa succede anche qualora dovessero stoccare la Zurigo non si risolve niente perché come avete visto il primo ciclo si attiva quasi subito quindi l'argento viene comprato quasi subito quindi l'oro in effetti a Zurigo ci sta poco ci sta poco nulla perché anche quando si chiude il secondo ciclo il soggetto riparte con un altro ciclo da capo e quindi poi l'oro riviene subito convertito in argento quindi a un certo punto non si parla di una cosa che nella sostanza cioè dovrebbero garantire l'argento a Zurigo capite quello quello che vi voglio dire piuttosto che l'oro è una cosa così sistema funziona così e vediamo vediamo diciamo l'effettiva grammatura l'effettivo guadagno alla fine del ciclo come vi avevo detto sin dall'inizio vorrei chiudere almeno 10 12 cicli e poi io mi devo mettere lì col 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 l'excel o quello che userò il sistema che userò vi vi possibilmente vi presenterò un resoconto di 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 tutti i risultati dobbiamo in questo caso mettere fare una media no mettere tutti i risultati insieme e l'extra grammatura creata in termini effettivi di grammi in termini di valore che faccio se sono 12 poi mettiamo tutti lì in fila dividiamo per 12 e vediamo se questa cosa qui effettivamente ha una sua qualità o meno ecco perché dobbiamo sempre verificare le cose ok allora detto questo nella presentazione fatta da ehm sia da claudia che appunto abbiamo già parlato no eh del discorso di claudia e della e della conferenza ossia ehm eh di della z metalli eh ora ora vi devo dire qualcosa eh circa il rapporto appunto creato con Antonino allora il anche il discorso della z metalli può essere molto interessante perché perché ci sono già per esempio molte persone che hanno comprato oro e come vi ho ricordato tante volte eh non eh per le ricerche che abbiamo fatto noi non è suggeribile tenere consigliabile tenere l'oro in Italia ma per diverse ragioni prima di tutto è molto caro poi queste aziende non sono aziende di specializzate nel deposito principalmente nel deposito perché perché le aziende specializzate che fanno cioè che vogliono fare deposito devono avere una licenza particolare dalla questura come c'ha anche detto Antonino su sono due licenze completamente diverse e per tutta una serie di ragioni in passato ci sono state delle truffe soltanto crediamo due aziende in Italia hanno questa possibilità ma non sono aziende di deposito vero professionale eh come posso dire eh specializzate come si trovano in Svizzera sono dei trasportatori che hanno organizzato un una zona cioè un ambiente delle loro aziende con delle cassette di sicurezza va bene ora che differenza c'è tra tenere l'oro presso queste aziende e tenerle presso le banche a mio avviso c'è nessuna differenza perché poi c'è il limite dell'assicurazione che se non erro è cinque diecimila euro ma cambia poco perché qui si parla comunque di investimenti di trenta quaranta cinquanta mille euro ed oltre no quindi c'è un non cambia assolutamente niente l'oro va stoccato in Svizzera perché una volta che l'ho stoccato in Svizzera non ve lo tocca più nessuno peraltro è molto più conveniente perché una piccola cassetta di sicurezza costa intorno meno di 600 euro all'anno e in una cassetta di sicurezza ci sta un sacco d'oro poi si tratta di organizzarsi stiamo lavorando su questo con Sandro della Swiss Gold Safe di questa azienda presso Giurigo per mettere insieme tutta la documentazione che vi serve naturalmente serve fatture di acquisto dopodiché si deve fare un form particolare si prende e si porta lì basta tutti coloro invece che non hanno ancora comprato oro e vogliono comprare il proprio oro sfuso vanno da Antonino e comprano l'oro che vogliono deve l'operazione avviene soltanto tramite bonifico bancario perché non si può più andare lì e comprare come si faccia una volta l'oro in contanti per il discorso del riciclaggio tutte queste balle qua va bene allora bisogna fare tutta l'operazione però in qualsiasi momento mi potete contattare si può anche vedere il sito insieme e fare diciamo una valutazione di quello che volete volete comprare allora adesso vi devo dire una cosa molto importante che abbiamo accennato anche durante il convegno vi ricordo che la registrazione è comunque disponibile sui canali è la registrazione del canale di sabato è un intervento solo la mattina mentre la registrazione del del cosiddetta della presentazione della fondazione c'è la mattina e il pomeriggio va bene allora durante la sta ricerca e mi sono accorto parlando che la z ha i migliori prezzi del mercato ora eh Antonino durante l'intervento si ha confermato questa cosa ma poi ha detto sai noi lavoriamo anche con conto terzi per altre aziende mi 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 torna male no stare a dire che noi siamo insomma abbiamo i prezzi migliori di loro perché sembra un po' una concorrenza sleale in effetti dal suo punto di vista è corretta questa cosa ma io non lavoro per la z metalli quindi io vi posso dire che il prezzo che praticano loro in questo momento hanno anche eh eh pezzi da un grammo due grammi tre grammi e su su è il migliore che potete trovare sul mercato perché io l'ho già confrontata a questa cosa ed è sicuramente il migliore va bene tenete presente che io su queste queste questo questi insomma piccoli suggerimenti o collaborazioni con la z metalli immagini sono talmente risicati che io non voglio neanche niente l'importante è che siate contenti e che abbiate un'esperienza positiva poi comprate un piccolo quantitativo nessun problema ve lo potete tenere mettere la cassetta di sicurezza in casa eh alla banca dove volete voi fino a cinque diecimila euro no io non 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 insomma va bene non è un grande problema potete acquistare anche eh argento ecco la novità è questa quindi io vi suggerirei di comprare piccole monetine o piccole placchettine c'è anche eh abbiamo abbiamo omaggiato anche delle 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 placchettine degli ingottini di un'oncia eh lì durante l'evento e la 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 z metalli ha ha offerto per l'estrazione a premi un bel regalo ci ha fatto perché ha offerto tre grammi un tre grammi d'oro va bene e tre eh eh lingottini di argento abbiamo fatto l'estrazione poi sono state consegnate va bene ehm nell'accordo che abbiamo con con Antonino prevede anche la creazione di eh una serie diciamo così dedicata alla doctor max foundation cioè tutti coloro che eh comprano oro possono comprare quello della z e non c'è problema però se vogliono dare un minimo di supporto anche alla fondazione che ho costituito in Tanzania possono farlo il prezzo è lo stesso e quindi poi Antonino mi girerà un minimo ovviamente di contribuzione ecco ci tenevo particolarmente a fare questa cosa qui perché fa comodo a me ma anche fa comodo anche a lui perché una delle cose più importanti per esempio a chi parla di marketing no tante volte che io faccio notare certe cose mi faccio notare che una delle cose che dà maggior credibilità alle aziende in America è che tutte un po' più un po' meno o hanno una propria fondazione o eh insomma fanno attività di chari di beneficenza quasi tutte le aziende fanno operazioni così perché sono operazioni di immagine e quindi da una parte prendono dalla società dall'altra mostrano di dare qualcosa indietro poi che lo diano o che non lo diano si può discutere qui all'infinito ma questo non è ciò di cui dobbiamo parlare oggi eh ecco e quindi ci sarà anche questa cosa che è piaciuta anche Antonino perché è molto sensibile lui fra l'altro conosce molto bene l'Africa ha anche adottato una bambina africana di colore quindi è una persona anche molto particolare è infatti insomma anche con claudia ci stiamo trovando molto bene a lavorare diciamo di gruppo sì un attimo solo un secondino soltanto avviate pazienza arrivo subito al secondo eccoci qua scusate eh ecco avete per caso domande o commenti in base a quello che ho detto perché praticamente avrei detto tutto eh sul almeno per l'intervento di oggi prego Giulio buongiorno naturalmente saluto tutti Erika Irene buongiorno dimmi ah volevo solo salutare tutti sono arrivato in ritardo niente eh ritardo giustificato nessuna nessuna penalità ecco eh va bene eh dunque vediamo un attimino altre cose io rientro martedì e lunedì non ci sarà l'intervento con eh con Flavio anzi io devo comunicare e poi riprendiamo mercoledì anche quel mercoledì lì abbiamo deciso di non fare l'intervento su destinazione Tanzania ma lo faremo il 6 di gennaio che è il giorno dopo le elezioni americane e seguirò eh perché tante volte mi chiedete le cose seguirò le elezioni americane e magari faremo una chiacchierata su quello anche se come vi ho già detto ve lo ripeto il presidente degli Stati Uniti è già stato scelto almeno sei mesi fa devi dire il 6 di novembre però hai detto 6 di gennaio scusami 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 Duglio grazie e quindi poi il prossimo sabato naturalmente faremo il solito intervento eh come oggi e ripartiremo con la con la solita programmazione eh sono personalmente sono molto contento ho visto molti interessi anche sul piano B ci sono molte persone che vogliono venire quindi io sono comunque sempre occupato poi sto rientrando sto cercherò sicuramente di portare avanti il progetto della barca e quindi io sono comunque sempre occupato perché purtroppo mi invento sempre delle cose per complicarmi la vita però eh il discorso dell'oro forse perché è chiaro no adesso c'è un picco ed è molto caro è un pochino ancora così vorrei vedere un pochino più ehm un pochino più di azione come sempre e io insomma si cerca di fare quello che quello che si può fare e va bene lo stesso ecco non è che sia un grande problema ecco domande o commenti per quello che riguarda i dritz non è alla fine non è stata annunciata una valuta ma è già finito tutto hai visto però penso che hanno hanno stanno lavorando un nuovo sistema di ripagamenti e sostituzione dello suite beh quello è probabile che lo facciano fare con l'autorizzazione del consiglio di amministrazione dell'abisso sì hai capito cioè tradire il fare c'è di mezzo il mare no e quindi l'immagine della banconota con come Jack scusa no c'è stata un'immagine con la nuova banconota diciamo dei brizzo me la puoi mandare per piacere ma forse ce l'ho già se me la mandi mi fai un piacere bene sai con digitale oggi si si fa tutto ma vi dico guarda vi dico vi racconto un'altra cosa che ne volevo parlare e adesso mi è venuta in mente ve la racconto tra pochi anni tra pochi mesi se voglio io potrò creare questi interventi utilizzando l'intelligenza artificiale cioè voi sentirete me con la mia voce ma non sarò io che parlo ci sarà una conversazione una registrazione e pre registrata io avvierò quella e magari anche con dei piccoli spot no questi qui che si crea si mettono adesso su facebook su youtube eccetera però dei piccoli spot di 30 secondi in cui appaio io ma non sono io c'è l'intelligenza artificiale che vi dirà delle cose su loro e per certi aspetti venderà e sarà anche più credibile di me in persona guardavo l'altro giorno vi ho raccontato non so se lo ricordi tre due settimane fa tre settimane fa leggo un articolo faccio un clic no di quelli sapete clic per per fare soldi su una notizia di un incidente capitato a valentino rossi va bene allora perché poi loro sono furbi loro sanno che io seguo il moto gp e quindi ti mandano tutte quelle cose relative all'argomento che ti segui no quindi è chiaro che essendo io interessato ci ho cliccato sopra e viene fuori questa questa pagina web in cui si parla del fatto che valentino in inglese valentino rossi è collassato mentre andava in chiesa una storia così io poi naturalmente controllo tutto tutto insomma poteva essere una cosa vera no dio ma mi sembra strano è però controllo erano grandissima balla però intanto hanno creato il click tre giorni fa o due giorni fa ero su youtube no perché ogni tanto posto queste cose curiose che trovo su questi questi real no siamo lì ogni tanto li posto sul mio canale di whatsapp va bene e chi li vuol seguire magari trova anche delle cose molto interessanti di cui non posso parlare perché non c'è tempo di approfondirle ma che carico lì va bene molti interventi di jordan maxwell di osho ieri ho postato un po di cose di osho e e e e vedo questa notizia vi vedo greggio quello di striscia la notizia è praticamente con l'annuncio che è stato arrestato e io ci clicco sopra no per curiosità quello da clicca sopra e quindi si parla di questa notizia con la storia che lui è stato invitato a che tempo fa e poi comincia a parlare di queste cripto comincia a parlare del fatto che gli italiani lavorano tante guadagnano poco è giusto che le persone guadagnano di più tutte cose di questo tipo e e poi a un certo punto dice l'articolo che che la trasmissione viene bloccata dalla banca d'italia io quando ho detto banca d'italia ho capito subito che l'articolo era 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 fake c'è qualcuno di voi che può dirmi perché a parte che la banca d'italia non è che telefoni indirettano magari sarà stato incaricato perché non è la banca d'italia che eventualmente deve agire ma è la consob in questi casi che è l'organo preposto al controllo di quello che succede anche se purtroppo fa poco nulla fa poco nulla basta vedere quello che succede nel mercato dell'oro con tutti questi banchi metalli che di fatto loro non ce l'hanno e ti vendono prodotti finanziari e ti fregano così c'è due due casi per le mani adesso molto simili di persone che hanno investito in oro pensano di avere investito in oro percepiscono un interesse mensile ma loro non c'è tipo catenie santo antonio va bene o schema ponzi stessa cosa quindi io leggo tutto l'articolo finisco tutto l'articolo dice poi ha compensato eccetera 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 ecco anche tutto questa cosa che è notizia falsa perché poi sono andato a controllare su google e non è successo assolutamente nulla ma per come te l'hanno fatto sembrava vero cioè io stesso che c'è un po l'occhio a vedere queste cose e se non ci penso bene fregano anche me quindi questa digitalizzazione stiamo è andando incontro a una già una digitalizzazione in cui è tutto virtuale c'è più nulla di reale ma poi c'è anche il problema dell'intelligenza artificiale che risoprannumerei eh deficienza artificiale perché eh come si sa il computer non è intelligente il computer dice quello che te li metti dentro non ha la capacità la logica quella ce l'abbiamo soltanto noi quindi l'intelligenza non potrà mai essere intelligenza artificiale è è più eh come posso dire un database tipo google che ti dice le cose poi può parlare non può parlare ma non è certamente intelligente già il nome che gli hanno dato è una fregatura e quindi e quindi tra poco noi voi penserete di parlare col dottor max ma non parlerete più col dottor max perché quando magari intervengo interviene non lo so la trasmissione o vedete quella sarà sarà un sosia sarà un'immagine virtuale che parla grazie all'intelligenza artificiale andiamo incontro ad un mondo così non farla questa cosa dottor max però eh se no io non ti seguo più no la faccio a fregatura e poi ve lo dico facciamo sì perché mi diverto anche non a come scherzo come scherzo è come ho visto ho visto i brics che mi sembra di aver letto che altri 13 paesi sono entrati nei brics e anche la la turchia se non è un fake che è nella nato della turchia quindi due blocchi che si contrasteranno come avevi scritto si stanno veramente palesando insomma si stanno formando brics è una realtà grossa ecco sì però eh grazie a tutti 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 la guerra mondiale probabilmente sarà inevitabile perché è chiaro che l'impero diciamo così dell'occidente che poi è rappresentato agli Stati Uniti non vuol mollare grazie a tutti e cadrà anche quello però il 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 crollo dell'impero diciamo così degli Stati Uniti non necessariamente significa il crollo del dollaro perché questi banchieri sono ormai a livello mondiale sono anche all'interno delle delle banche dei brics perché la Russia è stata fatta è stata fatta con i soldi di Schiff che era scritto nel capitolo 4 ma bisogna leggerlo per capire poi le cose succedono se no uno pensa che non so che che la banca dei russi ora perché c'è Putin sia è indipendente da no 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 assolutamente no la la rivoluzione francese la rivoluzione russa è stata finanziata con 10 milioni di dollari in oro offerti garantiamo dati forniti da Schiff che era un agente dei roccia e roccia e del Vaticano negli Stati Uniti quindi chi c'è che ancora di dietro controlla Putin secondo voi invita a riflettere la banca di terra come la banca di terra non necessariamente Erika deve essere la banca d'Inghilterra diciamo questo gruppo di banchieri che a a cui fa capo sicuramente anche la banca d'Inghilterra sì perché la banca d'Inghilterra da chi è controllata la banca d'Inghilterra da Rochel bravo probabilmente ancora controllata totalmente da Rochel perché non so se conoscete la notizia quando ci fu la guerra di Napoleone no Waterloo si sparse la notizia che che Napoleone aveva vinto tutti e ovviamente questo creò un crollo nella borsa di Londra e poi due giorni dopo venne fuori che aveva perso a quel punto i Rochel avevano nel frattempo comprato tutte le quote la gran parte delle quote del mercato azionario e diventarono in tre giorni con un trucco con un trucco miliardari quindi queste cose le ha parlate Justi Smalley tante volte le ho parlate anche io ho passato tante volte però purtroppo la gente o gli storici o i giornalisti questi qui che parlano se le scordano o non le sanno e parlano 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 il famoso internet ho ricevuto almeno sei o sette messaggi che io io mi nervosisco anche un po' e devo essere sincero quando ricevo da amici che mi dicono ma allora è vero che i cazzari controllano l'oro e io dico come i cazzari controllano cosa cazzo c'entrano i cazzari con l'oro e semplicemente perché uno così ha dichiarato una cosa del genere ma qual è la fonte ma dove l'ha letta una cosa così Rimondini che ha dichiarato sì non lo volevo dire ringrazio non lo volevo dire perché non voglio che questo non ha capito assolutamente niente di nulla non sa assolutamente nulla per dire fa una dichiarazione del genere a parte bisognerebbe sempre usare il condizionale ve l'ho detto tante volte è chiaro che si usa il condizionale fai meno presa no? quando invece fai una dichiarazione del genere e poi non presenta nessuna fonte chi l'ha detto? l'ha detto lui? dove l'ha letto? ora che una parte degli ebrei diciamo si detti ebrei che adesso si dovrebbero distinguere sionisti e non sionisti eh perché tanto anche quello che sta succedendo in Israele ed opera diciamo così più della frangia sionista politica no? che quella veramente ebraica ve l'ho spiegato anche diverse volte questa cosa è chiaro sono coinvolti perché sono potentissimi no? va bene ma sono degli amministratori perché la loro ricchezza è stata la conseguenza delle licenze che hanno ottenuto dal Vaticano nel corso dei secoli come come collettori di tasse delle tasse collettori vuol dire raccoglitori cioè andavano a bussare le porte per nome e per conto va bene? e pagava e la gente va a pagare la decima perché questo ovviamente il Vaticano non lo voleva fare e continua così oggi è un po' più un po' meno quindi loro si sono arricchiti straordinariamente ma hanno sempre questa cosa per cui le licenze vengono rilasciate dallo stesso ufficio che non dovrebbe essere tanto lontano da dove abitate voi in questo momento oppure dalla city londra può darsi che tutta la parte amministrativa poi sia stata perché la city londra si occupa di tutte le leggi può darsi amministrativa può darsi sia stata anche spostata lì però naturalmente Remondini queste cose non le sa non conosce mica Justi Smullins non conosce mica Franco Collins non conosce nessuno di questi autori che non legge l'inglese perché uno che legge l'inglese si propone come storico non può dire una cazzata del genere però intanto la gente lo segue e poi mi scrive e io non so neanche come rispondere cerco di dare delle risposte diplomatiche le risposte sono nella trilogia perché la risposta è nella simbologia il problema di questa gente è che non sa niente di simboli e uno che non sa niente di simboli come ci ha ricordato Jordan Maxwell non è credibile non ci può insegnare niente praticamente non è credibile perché vede la storia solo da un'angolatura anche piuttosto piccola quello che ti apre la mente è lo studio della simbologia io questo ve lo ripeterò fino all'ultimo giorno che farò i miei interventi è molto più importante di quello che si legge perché i simboli non mentono mai quello che è interessante è che lui dice che le sue conoscenze le ha apprese tanto attraverso qualcuno dal Vaticano non ricordo male nome e cognome è facile si va avanti con tutte queste dichiarazioni troppo generiche e poi sono tutte scollegate cioè che cosa ha scritto questo qui di veramente innovativo di veramente rivelatore o rivoluzionario guardate io so per fortuna mia per esperienza mia capire quando ascolto una persona io non riesco neanche a ascoltarli questi qui mi ennervosisco è come quando ero in America mi viene in mente che magari come io non guardo la televisione va bene ero da un amico da qualcuno e questi c'è sempre la CNN o un canale americano che ti ripete sempre queste storie madonna mia e dicevo per piacere puoi abbassare la televisione mi viene mi viene un'ansia non so come spiegarla mi viene una cosa che non la posso ascoltare ecco io ho quasi quasi la stessa sensazione da sentire tutta questa gente qui perché io capisco se sono preparati o meno non citano mai il nome di nessuno ma com'è possibile ma dove le trovano queste notizie ma voi provate a fare una ricerca scientifica a farvi pubblicare uno studio che avete fatto senza le referenze provate le referenze sono la cosa più importante le referenze in questo caso sono le fonti si chiamano referenze sono quelle parole dove c'è il numerino leggete uno studio scientifico poi vedete ogni tanto ci sono dei numerini uno, due, tre, quattro questo è il numerino che corrisponde all'articolo che ha scritto quell'autore lì che conferma quello che sostieni te se no quello che dici te vale zero zero avete capito bene puoi essere anche presidente degli Stati Uniti se te scrivi un articolo in cui non hai questi numerini qui il tuo articolo vale zero non sarà mai pubblicato purtroppo queste cose la gente non le sa guardate in via del tutto confidenziale vi dico che ho avuto una specie siccome è incollegata lo sapete che io poi le cose le dico direttamente ho avuto un po' così diciamo così di discussione con Claudia perché hanno presentato questa cosa senza un piano di investimento si chiama business plan che era la cosa principale anche se lo fa in maniera semplice la cosa principale da fare e non l'hanno fatta e io gli ho spiegato a Claudia quando si fa un'operazione così in America e si fa un certo tipo di raccolta per credibilità si dovrebbero fare le cose in una certa maniera poi allo stesso modo vi dico che no le aziende grosse che poi vanno in public si dice che vanno chiedono poi soldi ai consumatori allora devono passare tutto uno scrutino un controllo dato dalla SEC e dopo soprattutto il 2008 apparentemente insomma questa selezione diciamo così è diventata molto più severa e molto più insomma molto più selettiva no diciamo così benissimo il mercato finanziario è cambiato no cioè è la solita bolla speculativa di più e peggio di prima perché Wall Street lavora in quella maniera lì quindi intendiamoci non è che sia così eh drammatico il fatto che però io io quando ho fatto io il mio business plan voi ne sapete queste cose quando io poi ho ho cominciato a un certo punto ave lavoravo insomma in azienda lavoravo su questo progetto che poi è un progetto della salute definitiva progetto della salute col mio metodo non solo si si poteva vivere meglio perdere peso stare in salute ma praticamente curi quasi tutte le malattie e chi mi conosce sa che prima di fare una dichiarazione del genere il sottoscritto ci pensa settantasette volte e se non è convinto non ve la farei mai io posso trattare quasi tutte le malattie e migliorare se non risolverle migliorare sicuramente eh eh lo stato generale del soggetto va bene quando io ho detto beh qui siamo quasi quasi in una situazione eh in cui se io trovo un partner qualcuno che ci mette qualche soldo apriamo un'altra bella location a Manhattan perché devi essere a Manhattan se sei a New York e poi vediamo quello che succede ho fatto un business plan senza considerare il mio tempo che mi è costato venticinquemila dollari io con i soldi miei quindi pretendere una cosa così da qualunque azienda che va in public cioè che si presenta per raccolta per fare raccolta soldi per fare delle cose ma mi sembrerebbe una cosa dovuta no ovviamente poi a me i soldi non me l'hanno dato perché quello che facevo io era troppo rivoluzionario figurati va contro gli interessi di tutte le aziende farmaceutiche i medici poi non capiscono una minchia di niente di quello che facevo non ho avuto nessun tipo di problema o problemi minimi a mettere insieme lo studio clinico perché per fortuna mi sono affidato a dei professionisti ebrei e mi sono trovato non bene benissimo e io credo di essere una delle uniche persone al mondo che è riuscito a ottenere una pubblicazione su una cosa inventata da me senza essere un accademico o un ricercatore proprio perché mi sono affidato a delle persone competenti mamma mia che fatica ecco è un po' la stessa situazione che mi trovo ad affrontare adesso purtroppo quando percorri delle nuove strade quando percorri anticipi forse i tempi o fai delle cose che non sono così ovvie non ti puoi aspettare che la persona normale sia così pronta a insomma a seguirti a capirti a come posso dire no a a a a a farti il passaparola perché non funziona così quindi io non è che mi lamento però ho già questa testimonianza questa esperienza fatta in america e quindi tanto lo so come funziona però purtroppo siamo anche un po' nei problemi per queste cose qui funzioni sistema funziona in maniera molto diversa da quello che si pensa quindi state attenti a tutti questi canali come si chiama il vaso di pandora quell'altro lì non imparerete mai nulla da questa gente qui ogni tanto c'è qualcuno che può avere un'intuzione va bene magari alcuni mi dicono si si ha detto le cose che hai detto te bene va bene allora no per dire adesso altri mi dicono sai che che c'è stato quello che ha parlato di quello che ha scritto te nella trilogia benissimo ha citato la fonte no e dove l'ha letto quello lì che l'ho descritto io per la prima volta se citi una cosa così così anche importante come quello che ha detto scritto Albert Pike o altre persone che io ho scritto nella trilogia insomma una certa professionalità richiede che tu citi la fonte dove l'hai letto se no ecco viviamo in un mondo che invece è strutturato solo sull'intrattenimento è soltanto intrattenimento benissimo io se non ci sono domande l'intervento di oggi lo chiederei qua scusate ci sono magari amici che non conosco Gabriele buongiorno Damon buongiorno tanto poi lo mettiamo in registrata questo intervento lo potete riascoltare benissimo se non ci sono domande io vi auguro un buon fine settimana naturalmente ringrazio Claudia e ci aggiorniamo ai prossimi interventi grazie e ci sentiamo presto buon fine settimana grazie